S.A.R, Abbiamo fatto una lezione precedente l'introduzione e abbiamo nghe vi sono le pa вм 떠 della testa e di salvatia e di grazia e di grazia che duncare e di davoluire facile e din nature la disgrazia è paziente e quando pecca, chiede perdono, ma questo non significa per una persona commetta il peccato che dice Dada al figlio della perdona, e che non si fa la parola di una perdonazione il che muore su questo peccato, se comenta il peccato, che ridono, e non aprire la morte del peccato e la seconda, fa, perché studiamoattamente cattò che c'è un giro di profilo Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Dice, ma io dico che lo spaventare è il creatore, non vedete, diciamo no, finché non mi serve lo spaventare con i tre tipi di doppio.